A Napoli riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al centro Movida e Criminalità Minorile. Allora in diretta ci aggiorna su come è andato questo incontro. Andrea Caruso. Questi erano i due punti all'ordine del giorno, Movida e Criminalità Minorile del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Riunione che è ancora in corso, circa un paio d'ore di riunione tra la Prefettura, i vertici delle Forze dell'Ordine e le amministrazioni di Comune, Città Metropolitana e Regione. Con noi il Prefetto di Napoli Claudio Palomba. Eccellenza ci può anticipare i contenuti dell'ordinanza del Sindaco Manfredi sulla Movida? Sì, sicuramente. Si è disposta, appunto, verrà disposta nell'ordinanza la chiusura nei fine settimana, il venerdì e il sabato alle due, negli altri giorni all'una di notte. Inoltre alle 22 ci sarà il diveto di vendita per i minimarket di sostanze alcoliche e ovviamente estesa a tutto il territorio della città di Napoli. Quindi sotto questo profilo, diciamo, verrà regolamentato in un'ordinanza specifica che immagino verrà adottata con decorrenza la settimana prossima queste prime misure che ovviamente verranno monitorate e verranno verificate attentamente da parte delle Forze dell'Ordine. Ovviamente, per quanto sia anche disposto con tutti i titolari e le Forze dell'Ordine, che i controlli verranno predisposti soprattutto nelle zone a maggior rischio, che sappiamo e conosciamo per quanto riguarda la città di Napoli. Sul fronte criminalità ci sarà l'ospicato potenziamento della videosorveglianza? Fortunatamente abbiamo concordato e abbiamo saputo dalla Regione di un ulteriore finanziamento di 150.000 euro. Probabilmente altre tante, come somma, verranno ulteriormente disposte, quindi sono 300.000 euro. E partiranno i progetti per Ponticelli, Scampia, che sono bloccati come progettazione, ma abbiamo definito che già dalla settimana prossima verrà. E quindi si potenzierà anche in periferia. È tutto dalla Prefettura di Napoli, vi restituisco la linea.